Non è una cosa normale, però ci dobbiamo comunque adeguare a tutte le problematiche che sono successe in questi mesi. È chiaro che ci sono delle problematiche, la più grande è sicuramente quella di non sapere chi affrontare per preparare al meglio la partita. Un giorno in meno per scendere in campo, conoscendo il proprio avversario 72 ore prima. Nella Serie C, che ha anticipato al 30 giugno l'inizio dei play-off, la prima pugliese a entrare in scena sarà la Virtus Francavilla. Noni allo stop del campionato con 40 punti, i biancocelesti affronteranno in trasferta una tra Catania e Teramo, nome legato alla vincente della Coppa Italia di Serie C. Per il DS, Mariano Fernandez, ciò che conta è l'atteggiamento in allenamento. Lo staff tecnico insieme ai ragazzi stanno lavorando in base ai due avversari, che può essere uno Teramo e l'altro Catania, per prepararla al meglio in queste condizioni un po' complicate. Quindi va bene così, è importante che stanno tutti bene e stanno lavorando bene. Quattro anni nel calcio pro, quattro partecipazioni ai play-off. La storia della Virtus Francavilla in C è breve ma intensa, con una parola d'ordine, entusiasmo. Sarà difficile perché abbiamo un risultato su tre, però questa è una scuola che ha dimostrato che comunque può giocarsela con tutti e ha fatto risultati con le squadre che sulla carta sono più forti, che puntavano a vincere il campionato. Capitolo contratti. La FGC si è espressa con un protocollo invitando all'accordo privato per i calciatori in scadenza i prestiti in casa Virtus. I due legami in scadenza a titolo definitivo sono quelli di Poluzzi e Albertini. Stiamo parlando sia con Poluzzi e Albertini, che sono i due in scadenza. Poi, chiaro, stiamo parlando per prolungare il contratto, quindi non credo che avremo delle problematiche con i prestiti lo stesso. Al di là dei play-off, lo sguardo in casa Virtus è proiettato anche alla stagione 2020-21. Il presidente Antonio Magri ha giocato d'anticipo, prolungando fino al 2022 il contratto di mister Bruno Trocini e confermando a Fernandez una fiducia messa già nero su bianco. Con il mister abbiamo ritenuto già da tempo che era l'allenatore ideale per noi, lo ha dimostrato con serietà, con competenza, con il lavoro. Adesso vogliamo solamente concentrarci su questo play-off che sicuramente ce la vogliamo giocare con tutte le nostre forze e cercando di dare il massimo per arrivare più lontano possibile.